Beato Edmondo Ignazio Rice fondatore 29 agosto nasce ad Estcourt, in Irlanda il 1 giugno 1762. A causa delle leggi restrittive contro i cattolici d'Irlanda, non può avere accesso a carriere in ambito militare, statale o giudiziario. Trova quindi lavoro come apprendista nella società dello zio paterno, affermato esportatore di merci. Edmondo ha successo nel lavoro, si sposa, ma dopo pochi anni la moglie muore in seguito a un incidente, dando alla luce una figlia disabile. A lei il santo si dedica con amore. Rafforza il suo legame con la fede meditando la parola di Dio, partecipando assiduamente all'Eucaristia e impegnandosi in opere di carità a sostegno dei poveri. Successivamente si dedica all'educazione dei giovani, fondando a Waterford la comunità religiosa dei fratelli della presentazione nella quale ben presto inizia ad affluire un gran numero ragazzi. Assieme ai suoi confratelli Edmondo dà vita anche alla congregazione dei fratelli cristiani. Da lì a poco sorgeranno monasteri anche in Inghilterra, Gibraltar e Australia. Muore il 29 agosto dell'1 844 a Mount Sium di Waterford. Oggi le due congregazioni sono presenti in tutti i cinque continenti. Edmondo è beatificato da Papa Giovanni Paolo I nel 1996. Avvenire Grazie. 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 Grazie.